Eccoci qua, allora la prima intervista di Tutorman, abbiamo come ospite, io sono un attimino emozionato, sia perché è comunque la nostra prima intervista, ma comunque abbiamo un ospite che è veramente top, quindi Stefano Montana, innanzitutto Stefano ti ringrazio per aver accettato il nostro invito dell'intervista. Grazie a te Mattia. E poi ti chiedo appunto come introduzione per i nostri ascoltatori, le persone che vedranno questa intervista, di dire cosa fai proprio in due parole e poi andremo nello specifico più avanti di questo video. Ok, perfetto, allora io in questo momento ho un'agenzia di marketing specializzata in e-commerce e oltre a quello ovviamente faccio personal branding su YouTube e insegno alle persone come avviare il loro business e-commerce di successo partendo da zero. E inoltre ovviamente ho diversi brand sia dropshipping che private label, sempre relativo all'e-commerce quindi, tutto il mondo dell'e-commerce. Sì, tutto relativo diciamo al mondo dell'e-commerce, dropshipping e via dicendo. Esatto. Prima di cosa ti occupavi Stefano? Allora, praticamente prima ero diciamo uno studente, mi sono laureato alla Sapienza, Economia, prima la triennale poi la magistrale quindi ho fatto tutto il percorso, solo che arrivata la fine ho laureato con 110 senza lode. Ti manca la lode. Esatto, esatto, niente ho capito che ho capito che c'era un mondo nel digital, nel digital è un mondo praticamente infinito e mi sono buttato veramente alla deriva in questo mondo. Ho iniziato con il dropshipping che a quei tempi era diciamo una novità ancora anche in America e infatti ho studiato praticamente dagli americani perché lì era, arriva sempre tutto prima. Tutto prima, certo. Esatto, a quei tempi era proprio il selvaggio West, non c'erano regole, tutti vendevano qualsiasi cosa. Di tutto, era molto più semplice no prima? Allora, era più semplice però c'era meno conoscenza e la gente comprava un po' meno online, si fidava un po' meno. Certo. Invece adesso diciamo è un processo un po' più normalizzato, va bene? Certo. Possiamo dire che sicuramente c'era meno concorrenza perché c'erano meno persone che facevano dropshipping o vendevano online eccetera eccetera, però sicuramente è tutto rapportato. E' quello il discorso. Sono cambiate tantissimo, sono cambiate anche tantissimo le dinamiche di Facebook, dei social, insomma le polize, i termini. Sì, sì, è cambiato Facebook, è cambiato tantissimo. Sì, esatto, Mattia, esatto. Un'evoluzione allucinante. Esattamente. Dimmi una cosa, ma effettivamente tu dopo appunto i tuoi studi universitari che hai scoperto il dropshipping, com'è che l'hai scoperto? Cioè esattamente com'è che ti sei affacciato al mondo del web? Eh, questa è una bella domanda e praticamente mentre durante l'Erasmus, durante il mio Erasmus a Praga in particolare, conobi questo ragazzo che praticamente era il mio conquilino. Quindi vivevamo insieme, facciamo tutto insieme, uscivamo, andavamo a giocare a pallone e tutto quanto, cene e tutto quanto. Però la differenza era che lui faceva lo stesso stile di vita mio, però a lui entravano una cosa come 20k al mese, passive income, quello era veramente passive income, praticamente attraverso delle applicazioni Android. Quindi lui creava queste applicazioni e tramite la pubblicità di Google gli entravano questi soldi e ho detto, ma scusa, ma lui che fa? 20k euro al mese, facendo assolutamente nulla. Nulla? E faceva lo stesso stile di vita mio, cioè faceva le stesse cose, andavamo negli stessi posti, cioè proprio lo stesso stile di vita e gli entravano i soldi, 20k euro al mese, che in Italia 20k euro al mese neanche i politici li prendono. Certo, anche perché, anche lui probabilmente era uno studente, perché se facevi tu l'Erasmus probabilmente era il tuo coetaneo, quindi... No, lui è di tre anni più piccolo di me, del 94. Ok, quindi ancora peggio. Sì, no, no, lui era uscito con 60 dal liceo, quindi il liceo mi pare che fosse l'industriale, una cosa del genere, non mi ricordo. Comunque con 60, proprio buttato a calci fuori dal liceo. Esatto. E quindi era un ragazzo normalissimo, cioè aveva già finito il liceo da diversi anni e si trova alla Praga senza motivo praticamente, solo per godersi la vita. Ok, quindi è completamente a caso che conobbi... fu completamente a caso che conobbi questo ragazzo e mi cambiò la vita completamente, cioè mi aprì un mondo. Ti ha fatto scoprire praticamente... ti ha fatto scoprire quello che era il web, quello che si poteva fare col web e la potenza che c'era in questo strumento. Esatto, però all'inizio provai anche io con le app, fallimento totale, cioè dovevi impararti i codici, era un casino. E dopo un po' di tempo ovviamente tornai a Roma, dopo l'Erasmus completai il mio percorso universitario e praticamente mi lanciai sul dropshipping, perché l'ho scoperto poco dopo essermi laureato, mentre... cioè appena laureato sono partito alla deriva proprio, ho detto parto con i pochi soldi che ho da parte, dalla cresima, dalla comunione, dai soldi che mettiamo da parte, ho meno di 5.000 euro mi pare e sono partito alla deriva, mi pare il primo viaggio fu a Odessa, in Ucraina. Ok, in Ucraina, in Ucraina. Sì, perché costava poco. Certo, però comunque sono bei posti, lasciamo stare, faremo una live per gli agi. Dimmi una cosa, il momento effettivo, dopo comunque aver conosciuto il web, il momento effettivo in cui hai iniziato o hai capito che questo era quello che potevi fare nella vita, che poteva diventare il tuo lavoro, quando è stato? Eh, è una bella domanda, perché inizialmente avevo tantissima paura, stavo facendo le cose completamente a caso, nonostante ci fosse meno competizione, uno dice sì, era facile prima, invece no, io i primi giorni per una, due settimane perdevo 100-200 euro al giorno di Facebook, già ai tempi, quindi sappiamo tutti come Facebook prenderti soldi è il più bravo del mondo, un attimo, ci mette un secondo e manco te ne accorgi, proprio veramente è una cosa incredibile, e già ai tempi, cioè se non sapevi cosa stavi facendo, cioè puttavi solamente soldi, e quello, esatto, letteralmente bruciati, infatti è per questo che dico alla maggior parte delle persone che non si rendono conto quando iniziano che è un business vero e proprio, cioè, lo era anche prima, magari prima era diverso, ma comunque era sempre un business, ok? Un business di commerce, vendita online, è semplicemente una vendita però online, e ovviamente in quel caso stavo iniziando col dropshipping, quindi non compravo i prodotti prima, e c'avevo il vantaggio di non avere magazzino, di non dover comprare lo stock di merci in precedenza, e quindi capisci bene che l'unica spesa vera e propria era Facebook, principalmente, e come ti dicevo, per una o due settimane ho praticamente perso 100-200 euro al giorno, veramente in maniera assurda, che a quei tempi erano tanto, erano praticamente quasi 5.000 euro di budget, quindi immagina perdere tutti questi soldi subito, che poi ci dovevo pagare l'affitto, dovevo pagare da mangiare, e quindi capisci bene che erano tanti, E pesano tantissimo, quindi esatto, mi trovo un po' con la situazione, era proprio un periodo bruttissimo, mi ricordo ero devastato, volevo solamente guadagnare, fare i soldi il prima possibile, quindi mi stavo inventando di tutto, e a un certo punto, come per magia, studiavo, studiavo, provavo, testavo, e a un certo punto sono riuscito a fare la prima vendita, sembrava il giorno più bello, era il giorno più bello di tutti, Sì, sì, finalmente, e ho capito che, cavolo, qualcosa allora funziona, allora poi ho iniziato a fare, ho visto quella cosa funzionava, ho aumentato il budget lì, ho iniziato ad avere più vendite, più vendite, più vendite, poi ci sono andato sopra, ovviamente con tutte le vendite, e poi piano piano tutto quello che guadagnavo, quindi di netto, quindi per esempio vendevo un prodotto a 50 euro, lo pagavo in dropshipping 10, compresa la spedizione, pagavo Facebook, il costo per acquisto 20 euro, mi rimanevano 20 euro in tasca, li ributtavo tutti su Facebook, ed è lì che la gente non capisce come sia possibile guadagnare centinaia di migliaia di euro, milioni con l'e-commerce, con Shopify, dropshipping, perché è tutto lì, tutto quello che tu investi, scusami, tutto quello che tu guadagni lo rinvesti nel tuo business, ed è così che cresci e aumenti le vendite, ok? Se io so che con 20 euro riuscivo a fare una vendita, con 40 euro ne facevo due, ma dato che il pixel di Facebook più informazioni ha, e più ovviamente ti riesce a procurare vendite, quindi ti dà una spinta, esatto, più informazioni, più dati, riesce quindi ad aiutarti ad ottenere più vendite, a quel punto più aumentavi il budget e più riuscivi ad abbassare il costo per acquisto, quindi arrivavi da 20, arrivavi a 15, a 10, a 5, cioè ovviamente il tuo margine netto si alzava, è così. Certo, in maniera esponenziale. Effetto palla di neve, esattamente come la palla di neve. Certo, certo, sì, normalissimo, normale. E dimmi una cosa, in tutta questa tua fantastica carriera, che adesso insomma stai avendo comunque dei risultati spettacolari con il dropshipping, ci sono stati dei momenti difficili, da quando tu praticamente hai iniziato, hai iniziato a vendere, hai iniziato a fare delle vendite, c'è stato un momento che hai detto, porco cane, adesso mi trovo nelle pestole, come si suol dire. Guarda, sì, Mattia, purtroppo, come tu ben sai, intanto il mondo del business in generale è online e offline è sempre un'iconita, ok? Quindi soprattutto all'inizio, come ti ho detto, non sapevo cosa stavo facendo, mi sono buttato completamente alla teoria, quindi non è che dici, eh, era un imprenditore, che aveva un progetto, no, niente, quindi stavo facendo completamente tutto a caso. Poi questa, sì, diciamo, eh, questa, eh, come la possiamo definire, tutta questa, eh, carica, tutte queste emozioni che, eh, avevo durante, durante la mia crescita, non solo del business, ma anche personale, mi hanno aiutato tantissimo a crescere, a capire esattamente perché stava succedendo quello, eh, nella mia vita, in quel momento. E, eh, onestamente ti dico che, tutto quel, tutto quel dolore, quella sofferenza, soprattutto iniziale, che, eh, ovviamente, capisci bene, come ho detto in precedenza, che, che non, quando non guadagna, quando non guadagnavo, ero veramente terrorizzato, perché, eh, stavo spendendo tutti i miei soldi, in, in comunque, in comunque in Facebook, cazza, che, in butte, in qualcosa che non sapevi dove ti portava. Esatto, era tutta la deriva, ero spaventato perché non avevo la minima idea, di quello che stavo facendo, ero terrorizzato, ero, ero veramente, cieco, non sapevo cosa stavo facendo, poi a un certo punto, eh, quello, a quel punto ho capito che, c'era, c'era bisogno di dare una svolta alla mia vita, e, mi ricordo, che, eh, comprai il primo corso a mille euro, ovviamente in America, eh, ma ci impiegai come tre settimane, per, per cacciare questi mille euro, per spendere questi mille euro, perché ovviamente, eh, è normale, cioè, il primo corso, non sai, ok, mille euro, poi, soprattutto all'inizio, sono tanti, perché, sono tanti, però, quei mille euro, a me, mi hanno cambiato letteralmente la vita, e, eh, veramente, è stato il miglior corso, il miglior corso che abbia mai comprato in vita mia, e, sono stato fortunato, perché ovviamente, la maggior parte dei corsi sono inutili, eh, con fregature, quindi, capisco benissimo tutte le persone che, soprattutto all'inizio, hanno paura di investire, hanno paura ad iniziare, però, la verità è che, è un business, come, è un business aprire un ristorante, come aprire una gelateria, è solamente un business online, ok, quindi qualsiasi cosa, eh, tu vogli aprire online, è semplicemente un business, un'attività, un'azienda, chiamala come, come vuoi, solo che, sì, la differenza è che tu, c'hai molti meno costi, cioè, col dropshipping, tu non hai costi, è solamente Facebook, che, ovviamente tu decidi, in qualsiasi secondo di, eh, in qualsiasi secondo decidi di, eh, spegnere o attivare, ok, stiamo parlando, veramente di, una rivoluzione, eh, nel mercato del lavoro, nel mercato del business, delle attività online, perché, tu puoi, chiunque può, avviare la propria attività online, partendo da zero, con un budget che, che praticamente, è irrisorio, cioè, parliamo di, migliaia di euro, quando per aprire un ristorante, te ne servono, eh, centinaia, luco Stefano, eh, esatto, di che stiamo parlando, cioè, e soprattutto, ti serve un computer, un cellulare, una connessione internet, cioè, cosa che già hanno tutti, quindi non devi spendere in ufficio, devi spendere l'elettricità, al massimo cosa spendi? L'elettricità di casa, che già la paghi, e il wifi, cioè, quindi, ti capisci bene che, tutta quella paura, mi ha fatto capire, veramente, tante cose, quindi, da una parte, ovviamente, c'è il lato della sofferenza, che ovviamente è brutta, è meglio essere ricchi e basta dall'inizio, ovviamente, però, per chi, è meglio soffrire, è meglio soffrire da ricchi, no Stefano? Esatto, sì, esattamente, però comunque, nonostante tutto, penso che quella, quella sofferenza, quel dolore, ti faccia crescere, come nessun'altra cosa, quindi, alla fine, serve per farti capire, veramente, come funziona il mondo, e soprattutto, come sia possibile, lavorare da qualsiasi parte del mondo, con un computer, e una connessione internet, che, oggigiorno, è fondamentale, soprattutto, quando vedo, anche i miei amici, che hanno seguito, uno stile di vita convenzionale, e, sono al lavoro, sì, magari guadagnano mille, mille e cinque, duemila, massimo, e, tra virgolette, hanno un lavoro fisso, che poi, non è più, quindi, non è più, però, la cosa, la cosa, confermami anche tu, magari questo, la cosa che, vedo che un pochettino, faticano le persone, ma in generale, come mentalità, in Italia, forse un pochettino di più, nel resto del mondo, così, così, è proprio capire questa cosa, capire che puoi aprire impresa, con veramente poco, sul web, ma anche portare avanti la tua impresa, in determinate maniere, con un costo che è veramente, irrisorio, proporzionato magari, alla pubblicità classica, che si fa. Assolutamente, se tu pensi che, per esempio, in Italia, il CPM, ovvero il costo per mille, visualizzazioni in Italia, di 5 euro, su Facebook, tu con 5 euro, puoi raggiungere, mille persone, cioè, è incredibile, nonostante, nonostante che, comunque, poi dipende ovviamente, dalla nicchia, di mercato, eccetera, eccetera, però, di media in Italia, stiamo su 5 euro, cosa che, per esempio, se tu volessi, già, fare dei volantini, per esempio, non, con 5 euro, intanto, penso manco, non so quanti volantini, te ne stampano neanche uno, forse, esatto, già non li, non li può neanche stampare, poi, per arrivare, a consegnarne mille, mille volantini a mano, quanto ci impieghi, mentre con, con Facebook, con due click, da casa, dal computer, puoi, puoi farlo, cioè, quindi, non so nemmeno, cosa c'è da discutere, cioè, a me, a me pare talmente, facile da capire, però, giustamente, per chi non ha, per chi non ha mai, operato su Facebook, sui social media, YouTube, non lo capisce, però, sotto gli occhi di tutti, cioè, ormai, i social media, non sono più, dei social media, sono degli strumenti, delle piattaforme pubblicitarie, per, guadagnare, vendere, farsi conoscere, quello, quello è il loro più grande, introito, eh, sì, parliamo di miliardi e miliardi, di miliardi, sì, esatto, dimmi una cosa Stefano, ti faccio una domanda, abbastanza personale, qual è stata effettivamente la scintilla, che ti ha fatto dire, io voglio continuare in questa maniera, perché sto guadagnando un botto di soldi, qualcuno, tieni presente, magari qualcuno, è perché si è trovato senza lavoro, qualcuno, perché non ci ha vado a portare il mangiare a casa i propri figli, quindi, una cosa proprio che ti ha, toccato nel profondo, e tu hai detto, madonna, io voglio fare questo, voglio, al di là di quello che è il guadagno dei soldi, Stefano. Sì, sì, è una bella domanda, perché, una bella domanda, sì, sì, perché, allora, diciamo che, vabbè, io ero appena laureato, quindi, praticamente, non avevo, ero single, mi ero anche appena lasciato, grazie all'Erasmus, quindi, che fa danni, fa danni quello. Sì, 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 è terribile, è impossibile, quindi, capisci bene che, praticamente, dal punto di vista sentimentale, affettivo, comunque, mia madre ha una casa, lavora, diciamo che sta bene, però, fa una vita normale, che, comunque, è una, cioè, vengo da una famiglia normale, c'ho mia madre, il mio fratello, a casa, comunque, quello che volevo fare io, non era, andare a lavorare in ufficio, dalle nove, alle sei, tutti i giorni, soprattutto, in un ufficio, che, probabilmente, avrei odiato, per il resto della mia vita, e, soprattutto, perché mi ricordo, anzi, che provai, un giorno, a lavorare, dal mio commercialista, che adesso, è il mio commercialista, quindi, pensa, quanto è incredibile la vita, e, niente, mi ricordo, che quel giorno, fu, veramente, veramente, un disastro, mi sentivo, veramente, mancare l'aria, era, era come, stare in gabbia, cioè, veramente, come essere in prigione, senza, possibilità di uscire, stavi là, tutto al buio, con, con il computer, mi ricordo, era computer vecchio, tipo, Windows 98, cioè, tutti computer vecchi, cioè, era veramente, una sensazione, di privazione, della libertà, allucinante, e, io, ho detto, mi sono detto, no, Stefano, devi fare qualcosa, fai qualsiasi cosa, prova, e poi, male che va, torni a casa da tua madre, e vai a trovarti un lavoro, cioè, comunque, la vita va avanti, però, cosa puoi fare, ci devi provare, allora ho fatto l'inna, ho detto, non mi interessa, voglio provarci, voglio vivere come fa, il mio amico, che fa 20.000 euro al mese, senza fare niente, e, la scintilla che mi ha portato, a fare questo salto, perché, io, ho, veramente, veramente, mollato tutto, cioè, non ho cercato lavoro, o altre cose, mi sono buttato al 100% sul dropshipping, sull'e-commerce, e, successivamente, sul private label, sul social media marketing, ho imparato qualsiasi cosa, social media, email marketing, che poi, capisci che, è tutto connesso, in verità, qualsiasi business, soprattutto online, è tutto, tutto un unico business, esatto, è tutto, è tutto collegato, devi essere un esperto di email marketing, di social media marketing, di e-commerce, quindi, è veramente, ovviamente, sono tutte cose diverse, però, hanno un nesso, di connessione, hanno un filo, che le collega a tutte quante, esatto, quindi, vabbè, per fartela breve, io, la mia scintilla è stata, che non volevo vivere una vita, che avrei odiato, che non ti è piaciuta, sapevo già, che non faceva per me, è di gabbia, esatto, sapevo già, che non faceva per me, che per 40 anni, dovevo, fare sempre le stesse cose, prendere la metro a Roma, che è un disastro, quindi, sapevo, sapevo che non faceva per me, infatti, ho iniziato, il dropshipping, è andata bene, e già dopo che comprai questo corso, ero riuscito a fare, mi ricordo, il mio record, in quel periodo, era 800 euro netti al giorno, e poi, vabbè, adesso sono arrivato anche a 10.000 netti al giorno, però, cioè, dopo anni, non è che ci sono arrivato subito, dopo anni, certo, non ci arrivi subito, quindi, raccontami, visto che siamo entrati, e abbiamo toccato, insomma, questo, questo tasto dei soldi, dei guadagni, al giorno, e cose varie, che alla fine è quello che conta, è quello che conta, sì, andiamo un attimino sul presente, quindi, che risultati adesso hai, e hai avuto, che sono effettivamente eclatanti, non necessariamente in termini monetari, se vuoi comunque parlarne, puoi parlarne anche a livelli, appunto, di guadagni giornalieri, via dicendo, e spiega pure il tuo progetto, come è formata la tua azienda, e a cuore aperto, insomma, la tua visione, di tutto quanto, e di quello che stai facendo. Ok, allora, sì, diciamo che, i risultati che ho ottenuto, principalmente, sono perché io vendo in tutto il mondo, è per questo che molte persone, magari non ci credono, che dicono, eh, questo è un altro che dice, fa miliardi, milioni, Lamborghini, cose del genere, in verità, se tu, fai due calcoli, e capisci che è un gioco di numeri, soprattutto con l'e-commerce, ok, quando per esempio, arrivi, come ho detto in precedenza, ad ottenere per ogni vendita, 20 euro netti, a quel punto devi solamente scalare, e se tu vendi, in tutto il mondo, in diverse lingue, in diversi paesi, tu lo puoi fare, perché, stiamo parlando di miliardi di persone, che tu puoi taggezzare su Facebook, su YouTube, su Instagram, quindi, queste cifre in verità, sono, ovviamente, dei risultati incredibili, soprattutto per chi è abituato a vedere, 1500 euro al mese, di stipendio, eh, io lo capisco, però, loro devono capire, che questo mondo digitale, è talmente potente, che ti permette di vendere, qualsiasi tipo di prodotto, a qualsiasi tipo di persona, nel mondo, ovviamente, l'unico requisito, è che loro abbiano una connessione internet, e siano connessi a Facebook, e quindi, e quindi, praticamente, su Facebook, adesso siamo arrivati, penso a 2 miliardi, 2 miliardi e 100 milioni di persone, di utenti attivi, una cosa, quindi, propositata, solo da Facebook, poi c'è, adesso c'è YouTube, ovviamente, anche YouTube Ads, Google, TikTok, Pinterest, US, Pinterest, va una bomba, gli Stati Uniti, TikTok è nuovo, però, già, ci sono gli ads, quindi, veramente, si può fare qualsiasi cosa, ora, ovviamente, per quanto riguarda, l'e-commerce, lo porto ancora avanti, però, diciamo, ho sentito, l'esigenza di creare qualcosa di mio, che fosse, veramente, mio, un business mio, costruito da zero, e per questo, ho deciso di iniziare col personal branding su YouTube, e, di creare un'agenzia di marketing specializzata in e-commerce, quindi, aiutare le persone, e le aziende, a ottenere maggiori risultati, a moltiplicare i propri fatturati, attraverso l'e-commerce e i social media marketing in particolare, soprattutto, in un paese come l'Italia, ovviamente, come tu ben sai, è molto arretrato dal punto di vista digitale, che è, quindi, direi che c'è tanto da lavorare. Sì. La tua visione di tutta la tua azienda, Stefano, quale può essere? Cioè, tu, cosa, cosa pensi da qui a dieci anni, di quello che stai facendo, a livello, appunto, della tua agenzia di marketing, e via dicendo? Allora, io voglio creare un vero e proprio ecosistema, quindi, per ogni persona, che vuole imparare veramente, vuole applicarsi, vuole, veramente, ottenere risultati, incredibili, attraverso l'e-commerce e social media marketing, voglio affiancare dei tutor, ok, personali, quindi creare un proprio, un ecosistema, con dei tutor, che, ovviamente, addestrati da me, direttamente, che abbiano già apportato dei risultati, quindi, non persone prese a caso, quindi, dei tutor, che possano veramente aiutare le persone, quindi, ovviamente le aziende, ma anche le persone, che vogliono iniziare da zero, a creare il loro business online, proprio dal principio, quindi, magari non sanno nemmeno creare una pagina Facebook, il tutor glielo insegna, magari non sanno come si apre, un negozio Shopify, il tutor glielo insegna, quindi qualcuno che li affianchi direttamente, che ho notato che, sì, attraverso il mio programma, di videocorsi, posso, ovviamente, insegnare a tante persone, però, molte persone hanno anche bisogno, di un aiuto diretto, quindi non basta, comunque, un videocorso, quello ovviamente, aiuta tantissimo, perché il videocorso è completo, e ti aiuta in tutti i passaggi, proprio step by step, però, il supporto, soprattutto, durante e dopo, il programma è essenziale, quindi, questo è quello che vuoi fare. Le persone, le persone sono tutte differenti, esatto, quindi, ognuna ha bisogno di essere indirizzata, su quella che è la sua carenza, magari, no? Lacuna. Esatto, voglio creare proprio un ecosistema, di persone che non solo, vengono aiutate, ma si possano aiutare anche fra di loro, perché, in verità, sì, c'è competizione, però, ogni persona può vendere in qualsiasi paese, in qualsiasi lingua, in qualsiasi prodotto, quindi, tu pensa quante variabili, ci possono essere differenti, in verità, la concorrenza, c'è, ma non c'è, quindi, diciamo, è un discorso un po' più profondo da fare, però, con l'e-commerce, ci sono talmente tante possibilità, come ti ripeto, che veramente la concorrenza, è solamente mentale, alla fine. Certo, perfetto Stefano, allora, noi adesso con le domande abbiamo finito, noi, i nostri ascoltatori, i nostri ragazzi del gruppo, che dicendo sanno bene o male dove trovarci, se vogliono ci trovano nel gruppo Tutorman, se vogliono ci trovano sulla fanpage di Matipoltura, ma a te dove possono trovarti, se vogliono seguirti. Allora, ho un canale YouTube, Stefano Montana, quindi potete trovarmi lì tranquillamente, pagina Facebook Stefano Montana, profilo Instagram Stefano Montana Real, quindi, cliccate Stefano Montana, trovate tutto. Ovunque, ovunque. ovunque, ovunque, probabilmente. Chiaramente il sito web Montana Business, giusto? Chiaramente Montana Business Online, punto com, chiaramente, dove là trovate anche i programmi avanzati, oltre che i programmi gratuiti, ai quali potete iscrivervi gratuitamente, quindi trovate tutto su Google Stefano Montana, troverete tutto quanto, se no arriverò io da voi attraverso le ads, quindi... Le ads. Attraverso le ads di Facebook, sì, quindi mi troverete, o io troverò voi. Perfetto. Grande, grande Stefano. Stefano, io ti ringrazio veramente tanto per la tua disponibilità, perché comunque in te, facendo questa intervista, abbiamo deciso di chiedertelo, io e il mio staff, diciamo, perché comunque abbiamo visto qualcuno che poteva dare qualcosa di più a confronto di quello che c'è adesso online e soprattutto sui social media, quindi ti ringrazio veramente tanto. Io ti ho conosciuto qualche tempo fa e sei una persona veramente squisita e pulita. Per questa intervista è tutto quanto, ringrazio tanto te, ringrazio tantissimo chi comunque guarderà questo video e mando un abbraccione a tutti. Ok, grazie Mattia, ti ringrazio. ben saluto e ti lascio chiudere. Grazie mille, ti ringrazio io in primis. Grazie di tutto Mattia, grazie di avermi ospitato. Grazie mille allora, un abbraccio a tutti. Un abbraccio. Ciao dal vostro Tutor Man Mattia. Ciao. Ciao a tutti.